Danneggiamento, estorsione, resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale. Le accuse nei confronti di un 32enne marocchino Tariq Lammadi con precedenti penali e senza fissa dimora. L'uomo tratto in arresto dagli agenti del commissariato di polizia di Barletta. Ebbene, attorno alle 3 della notte, tra sabato e domenica, lungo la litorania Pietromennea, luogo della movida notturna, pare che alcuni ragazzi fossero in procinto di recuperare la propria auto parcheggiata in uno spazio sterrato. Quando il 32enne avvicinato si avrebbe peteso del denaro per aver custodito la loro autovettura, scaturito un diverbio e la minaccia di danni ai giovani, allora avrebbero dato al parcheggiatore abusivo un euro, pensando che sarebbe stato sufficiente a risolvere la questione. A quel punto l'uomo, dopo essersi allontanato, pare sia tornato verso i ragazzi, lanciandogli contro delle pietre, colpendo così uno di loro alla mano e danneggiando l'auto. L'intervento degli agenti non avrebbe inoltre placato l'ira del marocchino, che all'arrivo dei poliziotti avrebbe risposto con minacce, farendo un agente in maniera lieve al capo prima di essere arrestato.